L'associazione Defbook Italia nasce nel 2011 con la vittoria del bando Principi Attivi, giovani idee per una Puglia migliore per supportare il progetto Defbook.it, un sito dedicato al mondo dei sordi. Obiettivi Agevolare l'incontro, la comunicazione e lo scambio di esperienze. Creare e sviluppare una cultura dell'integrazione. Secondo la legge 266.1991, Defbook Italia è un'associazione no profit che fornisce gratuitamente servizi e informazioni. Nasce in Puglia, a Monopoli, ma ha lo scopo di unire le persone di tutta Italia, creando una rete di contatti e comunicazione via Internet, grazie al sito defbook.it. Il progetto si rivolge al mondo dei sordi, ma anche alle famiglie e agli operatori del settore e segue i principi dell'integrazione e della gratuità. Grazie a tutti.